Allora, ti do il benvenuto nel modulo dei carboidrati. L'ho intitolato gli incompresi perché, come ben potuto vedere, non fanno tutti i danni che dicono e se guardi un pochino i carboidrati c'è chi ti dice che fanno ingrassare, che creano il diabete, eccetera. E tra i carboidrati la cosa più grave è che consigliano sempre quelli peggiori e sconsigliano sempre quelli che danno meno problemi di salute. Quindi adesso andremo a vedere proprio questo. Cercheremo di comprenderli un pochino meglio. Allora, innanzitutto quando si parla di carboidrati si fa un gran calderone perché si mettono tutti insieme senza mai distinguerli ma i carboidrati sono molto diversi. È diverso lo zucchero bianco dall'amido della pasta. Sono due cose completamente diverse. Anche l'assorbimento e il metabolismo cambia. Di solito si dice che lo zucchero bianco è quello che crea più problemi ma effettivamente è vero l'esatto contrario e poi andremo a vedere il perché. Allora, le fonti non sono tutto uguali. Gli amidi, soprattutto quelli che derivano da cereali e legumi, sono i carboidrati più dannosi in quanto stressano di più il pancreas, aumentano la produzione di insulina e portano con loro varie sostanze tossiche derivate dal cibo che li contiene. Allora, come è visto nell'altro modulo, gli amidi sono quelli che si trovano sui semi, quindi cereali e legumi contengono gli amidi. E come è potuto vedere sempre nell'altro video, i semi sono la parte della pianta che servirà per dare origine a una nuova pianta. Quindi nel seme la pianta mette molte sostanze difensive e infatti i carboidrati che la pianta mette nel seme sono quelli più difficili da digerire perché sono gli amidi, come vedremo tra poco, sono belli lunghi, quindi stressano molto l'apparato digerente e stressano il pancreas. Il pancreas è quell'organo che produce l'insulina perché praticamente per digerire questi carboidrati serve tanta insulina mentre se non andiamo nei carboidrati più semplici come lo zucchero che è contenuto nella frutta oppure il miele o il latte sono facilmente digeribili questi carboidrati semplici, non stressano il pancreas e interferiscono in maniera positiva con il nostro metabolismo. Allora, lo zucchero, lo zucchero bianco diciamo, è contenuto in genere nella frutta o anche nel miele. Nel miele addirittura e anche nella frutta è contenuto lo zucchero già predigerito, sia la molecola intera che quella predigerita. Anche il latte contiene degli zuccheri semplici, si chiama lattosio, anche questo tra poco lo vedremo, è uno zucchero facilmente digeribile e infatti sta nel latte che si dà ai bambini. La madre lo prepara per suo figlio. Questi sono carboidrati molto più facili da digerire e non stressano il pancreas e l'insulina. Perché? Perché a differenza degli amidi che si trovano sui semi, questi carboidrati più semplici in genere contengono la metà del glucosio che è presente qui e quindi praticamente a parità di calorie stimolano l'insulina praticamente alla metà. Quindi se 100 grammi di amido stimolano, che ne so, l'insulina 10, 100 grammi di zucchero magari la stimolano 6. Perché sono importanti? Perché sono la migliore fonte energetica per la cellula. La cellula, quando ha i carboidrati, funziona al meglio. Quando ha i carboidrati, diciamo, che gli arrivano in maniera continua, in maniera sufficiente, riesce a mantenere il metabolismo nel migliore dei modi. Quando iniziano a mancare i carboidrati, il metabolismo logicamente va avanti lo stesso, però va avanti in maniera un pochino più lenta, un pochino differente, diciamo. Esistono vari tipi di carboidrati. Abbiamo i carboidrati, quelli più semplici di tutti, che sono i monosaccaridi, come il glucosio o il fruttosio e la molecola è questa. Poi abbiamo i carboidrati sempre semplici, che si chiamano disaccaridi, come il saccarosi. Il saccarosi è lo zucchero da cucina. Come vedi, è fatto da una molecola di glucosio, questa, vedi, è identica, non cambia nulla. E poi, questa praticamente è una molecola di fruttosio. Quindi, la digestione, in questo caso, è semplicissima, perché che cosa succede? Quando questo zucchero entra nell'intestino, si spezza qui in mezzo, così, quindi si produce una molecola di glucosio come questa e una molecola di fruttosio. Il fruttosio, per essere digerito, non ha bisogno dell'insulina, digerito e metabolizzato fondamentalmente. Quindi, capisci bene che, a parità di calorie rispetto a un cibo contenente soltanto glucosio, stimola l'insulina molto di meno. E' effettivamente la natura che fa. Ce lo mette sempre nei cibi che ci regala. Quali sono? La frutta, il miele. Anche il latte, per esempio, è formato da glucosio e galattosio. Quindi, al posto del fruttosio c'è il galattosio. Comunque sia, è sempre una disaccaride, si chiama. Quindi, ha due molecole. Anche il latte lo spezzi qui a metà e dividi le due molecole. Quindi, la digestione è molto semplice. Invece, gli amidi, che sono quelli che si trovano soprattutto nei semi, cereali e legumi, anche nelle patate, comunque, sono, vedi, delle molecole di glucosio molto, ma molto lunghe. Quindi, che cosa succede? Che quando noi li mangiamo, il nostro intestino deve fare altro che questo. Deve tagliare qui, tagliare qui, tagliare qui, tagliare qui, poi e oltre, oltre, oltre. Quindi, servono molti più enzimi per far tutto questo lavoro ed è molto più lento tutto il processo. Quindi, questi cibi possono, questo amido può rimanere nell'intestino. Quando rimane nell'intestino, diciamo, per più tempo. Quando rimane nell'intestino per parecchio tempo, può diventare cibo per i batteri intestinali. In quel caso, se noi non abbiamo una flora batterica intestinale ottimale, può creare problemi perché fa sviluppare quei ceppi peggiori, tra virgolette. Quindi, gli zuccheri semplici, come ti ho appena detto, sono rappresentati dallo zucchero da cucina o, ad esempio, dal lattosio del latte. Sono quelli più benefici. Sono il dono che ci fa la natura. Il miele non è un dono che ci fa la natura, però se lo preparano le api per nutrire le altre api, dopo noi glielo rubiamo, ma effettivamente anche quello è un dono. Poi, il latte è un dono che lo fa la madre al figlio e la frutta è il dono che ci fa la pianta. E se pensi, in tutti questi alimenti ci sono zuccheri semplici e questi sono facilmente digeribili. Meno uno stressa tutto l'apparato digerente e meglio è. E interferiscono in maniera positiva con il nostro metabolismo. Poi questo lo andremo a vedere tra poco. Quindi, questi sono i posti dove sono contenuti. Ce l'abbiamo detto. Anche le carote un pochino di zuccheri semplici li contengono. Comunque, sono contenuti in tutti questi alimenti fondamentalmente benefici. I carboidrati complessi, invece, come ti ho appena detto, sono molto più lenti da digerire. Sono altamente dipendenti dall'insulina per il loro metabolismo e gli alimenti che li contengono spesso sono dannosi per la nostra salute. I pericoli dei cereali e dei legumi li abbiamo visti nell'altro modulo, quello sulle verdure. Comunque, togliendo anche sui cereali e legumi tutte le sostanze dannose che si portano dietro, anche il tipo di carboidrati che si portano sono più pericolosi perché stimolano molto l'insulina. Stressano anche il nostro sistema digerente. Quindi questi sono contenuti un pochino dappertutto su tutti i cibi che noi consumiamo e che riteniamo più salutari. Legumi, cereali e per cereali si intende anche pane, pasta, pizza, eccetera. Dopo non è che uno deve mangiare i semini come si vedono qua, poi si mangiano le farine. Perché sono importanti i carboidrati? Perché un metabolismo che brucia bene i carboidrati produce molto calore e soprattutto anidride carbonica. Allora il calore lo vedremo in un altro modulo, questo discorso che è molto importante, non è da sottovalutare, non è una frase, una parolina messa così tanto per dopo l'analizzeremo nel dettaglio. E anche la CO2, l'anidride carbonica. L'anidride carbonica tra le varie cose nel nostro corpo è anche una sostanza antiossidante. Tieni presente che l'anidride carbonica è anche una sostanza che rilassa la muscolatura. È presente quando il singhiozzo trattiene il fiato oppure ti dicono tutte quelle filastrocca oppure bevi l'acqua tutto ad un fiato perché? Perché facendo tutte queste cose aumenta la concentrazione dell'anidride carbonica all'interno del corpo, quindi poi si rilassa il muscolo e sparisce il singhiozzo fondamentalmente, però anche sulla pressione è utile eccetera. Quindi l'anidride carbonica è una sostanza che protegge la cellula, la cellula la usa anche come protezione, è un prodotto di scarto del metabolismo fondamentalmente, un metabolismo che funziona bene, produce tanta CO2, la cellula ha la CO2 a disposizione per fare quello che vuole e quindi funziona tutto bene. Tra le varie cose l'anidride carbonica è anche un buon antiossidante, quindi funziona anche questa funzione, visto noi andiamo sempre a cercare i migliori antiossidanti al mondo e come vedremo il corpo riesce tranquillamente a produrre quello che gli serve. E poi se il fegato ha scorte di glicogeno a sufficienza può convertire facilmente il T4 in T3. Anche questo lo vedremo dopo, già ne abbiamo parlato un pochino nell'altro modulo. Il T4 è un ormone tiroideo e il T3 idem. Il T4 ha un'attività metabolica molto bassa, il T3 invece è molto potente, quindi in genere il nostro fegato trasforma il T4 in T3, quindi trasforma l'ormone quello poco potente nell'ormone molto potente e per far questo serve un po' di zucchero. Quindi un apporto costante e anche un apporto costante dei carboidrati limite il rilascio dei grassi. Questo è molto importante perché quando andremo a vedere i grassi capiremo che ci sono dei grassi che creano molti problemi a livello di salute, quindi rilasciandoli diciamo possono diventare tossici per le cellule, lasciandoli all'interno non abbiamo questo problema, quindi un apporto costante dei carboidrati non ce li fa rilasciare. Tu mi potrai dire sì è vero ma poi dimagrisco molto più lentamente, ma non è questo il discorso perché poi dopo, quando andremo più avanti ancora nel corso capirai che i grassi poi si consumano la notte sul metabolismo muscolare e conviene farli bruciare in quel momento. Durante la giornata senza far troppi danni conviene tenerli sempre bassi perché poi sul modulo dei grassi capirai un pochino la loro funzione e la pericolosità o meno. Allora partiamo un po' dalle basi di tutte queste raccomandazioni sui carboidrati. Negli anni 70 i dietisti hanno iniziato ad occuparsi di raccomandazioni nutrizionali, prima non se ne parlava molto, cioè nel senso si diceva questo alimento può essere migliore, quest'altro è meglio consumarlo un pochino meno, ma non esisteva una cultura proprio a livello scientifico sulla nutrizione, quindi l'America ha deciso di iniziare a dare delle raccomandazioni nutrizionali a tutta la popolazione, quindi ha radunato un pochino i dietisti e gli ha detto sentite troviamo un modo di dare raccomandazioni valide un po' per tutti. Così hanno iniziato a valutare l'ipotesi di aggiungere come base i carboidrati complessi nelle diete. Prima i carboidrati erano tutti uguali come abbiamo visto nel primo modulo sulla dietetica moderna, all'inizio i carboidrati, avete visto nelle diete all'inizio, la dieta del riso e anche le altre, le persone potevano mangiare tranquillamente zucchero, caramelle eccetera, non c'era alcuna differenza tra lo zucchero o l'amido, tra le cose integrali o non integrali, quindi all'inizio era un pochino tutto uguale e i dietisti hanno iniziato a pensare che forse i carboidrati complessi fossero migliori rispetto a quelli semplici. Questo perché hanno una più lenta assimilazione, come abbiamo visto prima, come abbiamo visto all'inizio, i carboidrati complessi tipo l'amido, abbiamo visto che è formato da tante molecole così, quindi per digerirlo i nostri enzimi devono staiuzzare tutte queste parti. Quindi questi dietisti hanno detto, guarda, visto che dobbiamo spezzettare tutta questa roba, ci vuole tanto tempo, forse è meglio consumare questi alimenti perché sono a più lento rilascio e stimolano di meno l'insulina, un discorso un pochino teoricamente potrebbe filare per una persona che non conosce la biochimica dei carboidrati, ma per gli altri no, però diciamo questa è l'opinione di partenza, infatti questo l'hanno fatto perché sono a più lenta assimilazione. Però già nell'81 ci si era accorti che molti amidi avevano un indice glicemico più alto dello zucchero o dei succhi di frutta. Adesso ti spiego un pochino che cos'è l'indice glicemico così capisci bene il discorso. Allora prendiamo come esempio un carboidrato, ad esempio il glucosio, che è la molecola che abbiamo visto base, gli si dà un valore standard, ad esempio 100. Quindi io vedo, mangio 100 grammi di glucosio, vedo l'insulina quanto aumenta e in base a quanto aumenta gli do il valore 100, quindi me lo aumenta del 100%. Ora prendo qualsiasi altro alimento e misuro in percentuale quanto fa variare la glicemia rispetto al glucosio. Tutti gli alimenti che stimoleranno meno la glicemia avranno un indice glicemico più basso rispetto al glucosio. Quelli invece che la stimolano di più lo avranno più alto. Quindi se il glucosio ti porta la glicemia a 200 e magari la pasta te la porta a 150, l'indice glicemico della pasta sarà la metà rispetto a quello del glucosio. Così se te lo porta invece a 300 sarà il doppio rispetto a quello del glucosio. Cibi con elevato indice glicemico fanno fare picchi glicemici e poi si produce molta insulina. Quando un cibo ti stimola tanto la glicemia, quando il cibo fa aumentare tanto la glicemia, cosa succede? Che noi dobbiamo produrre l'insulina per far abbassare questa glicemia. Quindi la cosa pericolosa sono questi picchi glicemici perché fanno produrre tanta insulina. Per questo è nato tutto quel discorso e ancora si fa questo discorso come abbiamo visto. Per questo sono raccomandati in genere i cibi a basso indice glicemico. Esistono vari studi e tabelle sull'indice glicemico. Io adesso ti porterò degli esempi con delle tabelle che si trovano nel sito dell'Università di Harvard che tra tutte è una delle più affidabili e imparziali. Diciamo, penso che la conoscerai. È una delle più famose e delle più importanti a livello mondiale quindi è affidabile in genere quello che scrivono loro, almeno sugli studi. Li fanno con una certa rigorosità questi studi. Partiamo un pochino dalla colazione. In genere che si mangia a colazione? Il latte, il yogurt, il latte di soglio e il latte di riso. Guarda il latte quanto ha l'indice glicemico, 40. Lo yogurt, 41. Il latte di soglio, 35. Siamo lì. Non cambia molto. Il latte di riso, 90. Quindi già i latti vegetali andrebbero un pochino rivisti perché come indice glicemico siamo molto più alti rispetto al latte normale ma questo, ripeto, se vogliamo ragionare in termini di indice glicemico poi che si dà a colazione? I cereali. I conflex hanno un indice glicemico di 90. Capisci quanto è alto il latte? Siamo a 40. Questo arriva tranquillamente a 90. Vediamo invece lo spuntino. La frutta e i succhi. Ti dicono sempre la frutta è pericolosa perché alza la glicemia, stimola l'insulina, eccetera. Ma banana 52, mango 52, datteri che sono molto zuccherini, attenzione datteri che sono pericolosi, fanno male alla salute, eccetera. 43 l'indice glicemico. Le pesche sciroppate, sciroppate sono quelle dentro lo zucchero, 45. Succo di mela, 42. Succo d'arancia, 50. Vedi che questi valori sono molto bassi anche rispetto a un cereale da colazione. Andiamo ai cereali. Quindi, come ti ho detto all'inizio, la frutta è quella da favorire quando noi mangiamo perché è uno dei doni come il miele, come il latte che la natura ci fa. E come vedi infatti l'indice glicemico di questo cibo è basso, molto basso, 50, 40. Quindi è un ottimo indice glicemico. I cereali. Il pane ha un indice glicemico di 75. Vedi, rispetto alla frutta siamo al 50% in più, perché il 52 più il 50% fa 75, 76. Pane integrale, 74. Quindi, ti dico, questi valori non me li sono inventati, li ho presi dalla tabella di Harvard. Quindi, già qui ti vorrei far ragionare un pochino. Ti dicono sempre, mangi i cereali integrali perché fanno ingrassare di meno, perché l'indice glicemico è più basso, eccetera, eccetera. Ma dove? Dico io, 75, 74. Pane bianco, pane integrale. Pane azimo, 72. Vedi, sono molto simili questi valori sul pane. Quindi, quale senso ha cambiare, andare sull'integrale, eccetera, quando l'indice glicemico è lo stesso fondamentalmente. Tieni presente che poi le fibre sono quelle che ti danno tutti quei problemi che danno le fibre. E poi, tutta la parte integrale, significa la parte fuori del chicco, è quella che ha più difese, quindi ha più antinutrienti, è quella un pochino più pericolosa, che tra l'altro contiene anche tutte le sostanze pericolose che c'erano nel terreno, come metalli pesanti, si accumulano fuori, il metallo pesante in genere non si accumula dentro al seme, ma si accumula sulla parte esterna, come i pesticidi, si accumulano lì sulla parte esterna. Riso bianco, bollito, indice glicemico 75, riso integrale bollito 70, anche qui, cioè non è che c'è tanta differenza, meno del 10%, 10% di 70 è 77, il riso bianco bollito è 75, siamo lì, non cambia molto. Spaghetti, hanno un indice glicemico di 50, spaghetti integrali, hanno un indice glicemico di 50, quindi anche qui, e ti dico, non me li sono inventati questi numeri, li ho presi dalla tabella di Harvard, quindi è attendibile, non li ho presi poi sulle tabelle, si trovano date tabelle sull'indice glicemico, perché ognuno poi fa la tabella come gli resta più comoda. Tieni presente che l'indice glicemico varia tantissimo, è un parametro che ha poco senso, perché varia da persona a persona, ad esempio nella frutta varia sullo stato di maturazione del frutto, varia anche su come è preparato l'alimento, nel senso anche a livello proprio meccanico, a livello fisico come è fatto l'alimento, ad esempio gli spaghetti rispetto agli altri tipi di pasta, hanno un indice glicemico un pochino più basso, perché gli amidi sono messi in un modo particolare, poi che ne so, la pasta al dente ha l'indice glicemico più basso della pasta ben cotta, quindi anche i tempi di cottura incidono, è molto relativo, poi dopo la glicemia può variare da persona a persona, ad esempio a me il riso può far schizzare la glicemia di tantissimo, magari un'altra persona gliela fa schizzare meno, quindi questo discorso dell'indice glicemico lascia il tempo che trova, però visto che si parla sempre di questo, ecco i valori, quelli veri, non quelli così a caso. I crackers di riso hanno l'indice glicemico di 87, il couscous ha un indice glicemico di 65, andiamo nei tuberi, le patate ha un indice glicemico di 80, per questo le patate purtroppo vengono sempre viste male nelle diete eccetera, perché hanno un indice glicemico molto più alto, ad esempio rispetto alla panna, ma guarda il pane è 75, le patate 80, vabbè la pasta sì, un 50, i spaghetti, poi la pasta normale ha più alto l'indice glicemico rispetto agli spaghetti, però per dire eccoci siamo su un valore abbastanza alto, ma come ti ho appena detto l'indice glicemico lascia il tempo che trova come valore, non ha molto senso, perché poi devi vedere anche la persona a livello fisico e fisiologico come sta, ad esempio dopo l'attività fisica, anzi è molto meglio avere un indice glicemico molto alto, se uno ha mangiato un quintale di roba è meglio un cibo con un indice glicemico, basso, quindi il discorso è molto più ampio e ha poco senso ragionare in questi termini, le carote ad esempio hanno un indice glicemico di 40, ci dicono sempre le carote no perché sono zuccherine, ma a parte i carboidrati ne hanno pochi, uno, due, non è che ne mangiamo un quintale, tre, l'indice glicemico comunque sia è basso, la patata dolce rispetto alla patata normale ha l'indice glicemico più basso di 65, i legumi per loro fortuna apposta vanno anche tanto di moda, hanno un indice glicemico che in genere varia da 20 a 30, quindi molto basso, molto ma molto basso, quindi per questo sono, nelle diete sono sempre favoriti per questo motivo qua, quando invece, a parte che apportano un indice glicemico basso, ma apportano anche diversi problemini. andiamo sullo zucchero e il cioccolato, allora, zucchero bianco, indice glicemico 65, più basso del pane, quindi questo zucchero bianco è talmente tanto pericoloso sulla glicemia che ha un indice glicemico più basso rispetto al pane, leggermente più alto rispetto agli spaghetti, rispetto alla pasta normale, anche lì leggermente più alto, ma non è un valore assurdo, i cereali da colazione, visto, stiamo a 90, il fruttosio è un indice glicemico di 15, il fruttosio è l'altra parte che costituisce lo zucchero, no, lo zucchero è composto da glucosio e fruttosio. E il miele ha un indice glicemico di 62, anche sul miele, questo io l'ho preso sempre da quella tabella il valore, però il miele varia molto da miele a miele perché ci sono mieli con concentrazioni più alte di glucosio e mieli con concentrazioni più alte di fruttosio, quindi questo valore, logicamente, può variare dalla tipologia di miele. Il cioccolato ha un indice glicemico di 40 perché il cioccolato contiene anche i grassi, i grassi, ad esempio, come le proteine, abbassano l'indice glicemico, come anche la fibra, quindi questo lo vedremo tra un attimo al discorso. E il glucosio, ovviamente, a 100 perché si parte dal glucosio, si mette come base e poi si danno tutti gli altri carboidrati rispetto al glucosio. Quindi, come ho appena visto, l'indice glicemico su per giù nei carboidrati, a parte i legumi, tutti quanti sono simili, lo zucchero, come vedi, non ha un indice glicemico più alto rispetto agli altri, ai cereali e la frutta non c'è anche un problema per consumarla perché l'indice glicemico è abbastanza basso. Però l'indice glicemico, come ti ho appena detto, è un parametro un pochino obsoleto, è un parametro che ha poco senso da prendere in considerazione, è un parametro preistorico. Adesso dovremmo parlare più in dettaglio del carico glicemico. Allora, nonostante che in Italia sia pieno di personaggi che ancora ragionano in termini di indice glicemico, ha più senso parlare di carico glicemico. Il carico glicemico, per spiegarlo in modo semplice, corrisponde all'indice glicemico del pasto, non dell'alimento. Quindi noi nel pasto non è che consumiamo soltanto zucchero, non è che consumiamo soltanto pasta, non è che consumiamo soltanto una banana, ma noi mangiamo tanti alimenti che contengono tot carboidrati e ogni carboidrato stimola l'indice glicemico in maniera diversa, quindi vediamo alla fine del pasto qual è tutto il carico glicemico, quindi quant'è l'indice glicemico del pasto. E' questo qua fondamentalmente il carico glicemico. E le proteine, i grassi e le fibre abbassano l'indice glicemico del pasto, che sarebbe questo carico glicemico. Quindi quando noi nel pasto consumiamo ad esempio le patate, che hanno un indice glicemico di 80, però le patate le consumiamo con il burro oppure ci mettiamo l'olio, quindi aggiungiamo dei grassi e magari dopo ci aggiungiamo anche una proteina magra, tipo l'uovo. Ecco, in questo caso un pezzettino di carne magro. Abbassiamo, anche grasso, alla fine non c'è un problema perché i grassi abbassano l'indice glicemico, abbassiamo quindi questo indice glicemico delle patate, che da 80 magari passa a 50 o anche a 40. Poi se ci mettiamo qualche fibra, che ne so, un pochino di insalata, ecco qua che da 80 lo portiamo a 40, anche meno. Quindi capisci che non ha senso ragionare sull'indice glicemico di questo alimento. ho mangiato le patate, hanno un alto indice glicemico e quindi è pericoloso. No, perché io quelle patate me le sono mangiate insieme a un pochino di carne, con un pochino di burro e poi ci ho mangiato insieme un piatto di insalata, l'indice glicemico magari mi è sceso a 40, che è come quello delle carote o anche meno forse. Quindi, questo per farti capire, tutto questo rischio, non c'è questo... fissarsi sui numeri non ha senso perché noi in un pasto non consumiamo soltanto questo. Poi se anche consumiamo soltanto questo, vedremo tra un attimo che non ha senso nemmeno quello. Infatti, come abbiamo visto all'inizio nello studio Diet Fits, una dieta con un carico glicemico doppio rispetto all'altra riesce a dare risultati sovrapponibili in termini di perdita di peso. Quindi si dice sempre che troppi i carboetrati stimolano troppo l'insulino, menta la fame, eccetera, eccetera, eccetera. All'inizio ti ho fatto vedere senza farti molti discorsi tecnici, andiamo direttamente sul pratico. Sono diete che non hanno tenuto conto del carico glicemico, hanno tenuto conto soltanto tra virgolette delle calorie. Vediamo che diete con l'indice glicemico doppio rispetto all'altra, la perdita di peso è praticamente identica, è sovrapponibile. quindi anche qui se stiamo a ragionare sull'indice glicemico che crea problemi di salute, che crea problemi di sovrappeso, eccetera, vedi che non ha senso, anche il carico glicemico non regge. E allora qui regna la confusione più totale. Andiamo un pochino avanti e cerchiamo di capire meglio il discorso. È il ragionamento di fondo che è sbagliato. Si è sempre ragionato con l'equazione carboidrati uguale stimolo insulinico. Quindi più carboidrati consumi, più insulina stimoli. Questo è completamente errato, questa equazione. Purtroppo qualsiasi nutriente stimola l'insulina. Ma anche una cosa fisiologica se ci pensi, l'insulina serve anche per nutrire la cellula, serve anche al bambino. Quindi il latte, ad esempio, è uno di quegli alimenti che stimola l'insulina tantissimo perché il latte serve al bambino per farlo crescere quindi è normalissimo che stimoli l'insulina benché il latte e i carboidrati ne ha pochi. Le proteine del latte per esempio la stimolano molto. I carboidrati in genere stimolano di più l'insulina. Le proteine hanno un valore intermedio e i grassi invece hanno un valore molto basso però anche i grassi riescono a stimolare l'insulina. Quindi non è che se non mangi i carboidrati non stimoli l'insulina, anzi, la stimoli comunque. e con le proteine comunque si la stimoli abbastanza e poi tieni presente che tutte queste diete senza carboidrati con le proteine quando tu vai a mangiare stimoli l'insulina però non ci sono gli zuccheri quindi abbassi la glicemia e a quel punto entrano in gioco tutti gli ormoni dello stress che ti devono rimettere la glicemia in pari perché purtroppo quella insulina che tu hai stimolato con le proteine ti richiama lo zucchero all'interno della cellula quindi te lo fa perdere dal sangue e questo è una cosa molto importante perché come andrai a vedere più avanti io ti consiglio di fare il corso almeno un paio di volte perché qualche parola che dico adesso magari per te non ha significato alla fine del corso avrà un grosso significato ma magari adesso ti va persa quella parola perché non non la tieni in mente perché non gli dai il valore che deve avere quindi rifacendolo il quadro è molto più chiaro purtroppo ognuno parte con delle conoscenze di base le cose si capiscono quando uno ha la visione completa ma la visione completa purtroppo ce l'avrà alla fine del corso quindi riguardando magari ti verrà in mente qualcosina in più io ti consiglio almeno di guardarlo due volte e poi di riguardartelo dopo diversi mesi tanto è gratis se lo riguardi quante volte vuoi quindi non è un problema qual è il vero nemico dell'insulina ciò che è realmente pericoloso è l'eccesso calorico è l'eccesso calorico che fa la differenza vera più energia ingerisci e più insulina stimoli quindi il problema vero sono i pasti abbondanti le persone che diventano diabetiche o diventano grasse non è che mangiano zuccheri dalla mattina alla sera mangiano tanto in genere oppure hanno un metabolismo corrotto ma questo quello lo andremo a vedere più in là però per farti capire il discorso che sull'insulina la cosa importante la cosa da valutare veramente è quanto uno mangia è tutto lì è il cibo quanto cibo uno ingerisce è lì che uno va a stimolare l'insulina è lì che diventa pericolosa il carboidrato da sé come visto all'inizio c'erano diete altissime in carboidrati la dieta del riso la utilizzavano sui diabetici quindi e poi c'è stata poco tempo fa la guerra a fruttosio che ancora dura purtroppo perché poi le guerre vengono portate avanti per tanto tempo allora il 30 luglio 2009 è stato caricato un video su youtube era un intervento del dottor Lutzing intitolato sugar the bitter truth lo zucchero la l'amara verità ad agosto 2019 questo video puoi tranquillamente andarlo a vedere basta che scrivi questo o basta che scrivi anche soltanto Lutzing sugar lo trovi tranquillamente agosto 2019 quando ho fatto questa diapositiva ha quasi 9 milioni di visualizzazioni questo video parla del fruttosio come se fosse veleno e come sia responsabile dell'obesità del fegato grasso e dell'insulino resistenza l'abbiamo visto all'inizio del corso l'abbiamo visto un pochino i grafici sul discorso consumo carboidrati obesità eccetera quindi non mi soffermo su questo discorso ma ti riporto i fatti diciamo non hai parlato di questo tieni presente che il discorso del fruttosio lo riporto addirittura un articolo sul sito del Bambin Gesù di Roma dell'ospedale famoso in tutta Italia uno degli ospedali pediatrici migliori che abbiamo l'hanno scritto le dietiste di quell'ospedale pensa che il giorno dopo l'hanno l'hanno tolto dal sito non esiste più io sono rimasto male quando l'ho visto effettivamente tanta altra gente ha protestato e l'hanno tolto perché non aveva senso fondamentalmente penso che queste persone qua si erano rifatte a qualche video del dottor Lutzing e poi dopo molti articoli riportano questo discorso quindi è un discorso molto famoso è per questo te lo indico te lo riporto l'obesità riportata in alcuni studi si verifica solo quando c'è un eccesso calorico indipendentemente dal fruttosio quindi se noi andiamo a vedere un pochino tutti gli studi sul discorso obesità e fruttosio dobbiamo trovare questa correlazione perché se c'è come dice qua come dice in questo video è molto convincente il video quando si mette paura è facile convincere le persone però se noi andiamo a vedere tutti gli studi l'obesità si verifica solo quando c'è un eccesso calorico indipendentemente questo è importante non lo dico io dicono gli studi indipendentemente dal fruttosio la liponeogenesi significa la produzione di grasso stimolata dal fruttosio nei topi è del 50% nell'uomo è al massimo del 10-20% quindi capisci bene che se fai uno studio nei topi con il fruttosio è molto più facile farlo ingrassare perché il fruttosio stimola molto nei topi la produzione di grassi mentre nell'uomo siamo al 10-20% contro un 50% è tanta la differenza eh poi i topi del dottor Lutzing consumavano fruttosio per il 60% delle calorie che sarebbe oltre 5 litri di coca cola per un uomo tutti i giorni il 95% diciamo i percentili sono la quantità di cibo che consumano le persone quindi il 95% significa che il 95% delle persone al massimo consuma quel valore quindi il 95% del consumo di fruttosio in America è di 87 grammi al giorno che non supera il 20% delle calorie totali qui dobbiamo arrivare al 60% tieni presente quindi il 95% ci dice che soltanto il 5% degli americani consuma più di 87 grammi di fruttosio al giorno e tutti gli altri ne consumano sicuramente meno il 50% magari sarà intorno a 40 grammi al giorno anche meno agli altri percentili quindi almeno il 50% delle persone non arriverà nemmeno a 50 grammi di fruttosio al giorno e comunque non supera il 20% delle calorie totali se arriviamo al 60% dobbiamo fare per 3 9-18 270 grammi di fruttosio al giorno ma qui capisci che siamo oltre al centesimo percentile in America diciamo troverai una persona su 100.000 che consuma fruttosio a questi livelli quindi ti fa capire il senso del discorso che non ha senso poi il dottor Lutzing dice che il fruttosio è una tossina pericolosa come l'alcol nel formare il fegato grasso è proprio questo che riportò quell'articolo ad esempio che ti ho nominato prima sul sito del Bambin Gesù in un lavoro del 2010 il dottor Luke Tappi ha voluto tracciare in maniera dettagliata tutto il metabolismo del fruttosio ecco cosa ha trovato il 50% del fruttosio viene trasformato in glucosio quindi non cambia nulla se assumi glucosio fruttosio tanto la metà viene trasformato in glucosio il 25% si trasforma in lattato quindi viene metabolizzato diciamo il 15% viene trasformato in glicogeno glicogeno sarebbe il carboidrato di riserva che troviamo nel fegato e nei muscoli quando noi assumiamo molto glucosio non immagazziniamo il glucosio in quanto tale ma lo immagazziniamo in una forma diciamo visto guarda questo è l'amido è una forma di riserva di glucosio perché queste molecole di glucosio se nel seme nella pianta stessero tutte quante separate una dall'altra occuperebbero molto spazio invece messe così sono tutte ordinate quindi occupano meno spazio così facciamo noi noi produciamo una sostanza diciamo simile all'amido perché tutte molecole di glucosio però è tutta ramificata a differenza dell'amido che è tutto quanto lineare il glicogeno è ramificato e questa è la nostra riserva di carboidrati quindi noi quando assumiamo questo glucosio il fegato lo trasforma in glicogeno quindi lo ramifica lo attacca diciamo prima lo digeriamo questo amido lo spezzettiamo lo trasformiamo in glucosio poi dopo lo rimpacchettiamo un'altra volta in una maniera diversa per conservarlo al meglio allora dove siamo arrivati qui quindi il 15% quindi viene immagazzinato e soltanto il 2-4% viene trasformato in grasso il 2-4% del fruttosio che noi assumiamo viene trasformato in grasso questo è uno studio importante perché proprio ha preso il fruttosio l'ha segnato si riesce a segnare la molecola e ha visto proprio il metabolismo com'era all'interno del corpo umano in vivo questo non in vitro il resto viene ossidato cioè trasformato in anitide carbonica quindi questo è quello che succede al fruttosio quando noi lo consumiamo dove si trova il fruttosio il fruttosio si trova naturalmente nella frutta e nel miele questi due alimenti lo forniscono puro oppure coniugato con il glucosio in questo caso abbiamo il saccarosio che è normale zucchero da cucina quindi lo zucchero da cucina come ti ho detto all'inizio è diciamo la combinazione di glucosio più fruttosio il miele ha sia zucchero da cucina come la frutta ma anche concentrazioni variabili di glucosio e fruttosio quindi qui abbiamo dei disaccaridi e dei monosaccaridi in maniera diciamo in concentrazioni diverse nella frutta idem e questo come ti ho detto questi qua sono i regali che ci fa la natura quindi la natura vuole che noi consumiamo queste cose qua e grazie Grazie a tutti